Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui vi parlo di Full Switch, un nuovo multitasking molto interessante per iPhone. Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video targato iPhoneItalia.com. Se siete alla ricerca di un multitasking alternativo per il vostro iPhone jailbroken, allora eccolo qui. Si chiama Full Switch ed è molto interessante, come potete vedere è un multitasking a schermo intero, si richiama sempre con una doppia pressione del tasto home e permette appunto di visualizzare le anteprime delle applicazioni a schermo intero e di scorrere tra le app aperte esattamente in questo modo. Quindi quando troviamo l'app che vogliamo aprire basterà o posizionarsi su di essa o semplicemente premere qui per iniziare ad utilizzarla. Quindi anteprime a schermo intero che ci permettono di visualizzare esattamente il contenuto dell'applicazione che andremo ad aprire, nello stesso modo in cui poi lo visualizzeremo appunto ad app aperta. Le applicazioni in Full Switch possono essere chiuse sempre allo stesso modo, quindi richiamando il multitasking e trascinando verso l'alto l'interfaccia dell'applicazione che si vuole chiudere. Le impostazioni di Full Switch sono molto ricche, questo tweak ci permette infatti di personalizzare il comportamento del nostro nuovo multitasking, possiamo scegliere dalle impostazioni di attivare e disattivare il tweak, visualizzare gli indicatori del multitasking. Dalle impostazioni di Full Switch possiamo poi attivare l'interessante modalità privacy che ci consente di sfocare lo screenshot delle applicazioni che stiamo visualizzando in questo modo. Una funzione che non mi funziona tanto bene, scusate il gioco di parole, vedete in alcune app funziona meglio, in altre un po' meno. Probabilmente fa anche una selezione sul tipo di app, quindi sul contenuto delle app che stiamo visualizzando. In ogni caso ragazzi questo è Full Switch per iPhone, è un tweak gratuito che potete scaricare da Sidia, se vi piace appunto lo trovate lì, fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci risentiamo al prossimo video. Se ti è piaciuto questo video clicca mi piace, condividilo su Facebook e iscriviti al canale se non l'hai già fatto. Queste tre cose ci aiutano a crescere e a migliorare per proporti sempre nuovi video dedicate all'iPhone di Apple.